ho dormito male e da diverse notti che mi sveglio verso le due del mattino e poi non riesco a riddormentarmi o meglio mi addormento di nuovo verso le sei e mi costringo ad alzarmi alle nove tutta la giornata se ne va se ne inizia male insomma perché mi sveglio con questo senso di tutto in ritardo perso un sacco di tempo poi sapete quando non si dorme bene la giornata non può che essere un po avvolta dalla nebbia e con questo con questa continua sensazione che sto perdendo tempo e che sono in ritardo anche se poi non è che abbia degli appuntamenti o le cose da fare ma se mi metto a fare il tempo ce l'ho però è come se si accavallassero le cose i pensieri tutto quanto inizia a fare una cosa e poi mi fermo a metà e penso dio ma devo fare anche quest'altro qui non riesco di fare non riesco non finisco di fare la prima mi butto a fare la seconda poi quando ho noto le niente a fare la prima si però ho lasciato l'altra metà è così no è una cosa che un po mi rompe anche perché cerco di andare a letto non troppo presto non troppo tardi quindi l'orario giusto e poi niente mi sveglio verso le due le due e mezza un posto sveglio a letto e dico vabbè ora mi riaddormento poi quando vedo che non mi riaddormento mi metto ad ascoltare dei podcast sto ascoltando ieri notte ho iniziato ascoltato una nuova serie abbastanza carina che si chiama we fix space junk una serie che si già da un po di tempo è una specie di commedia ambientata nello spazio siccome appunto è carina ne ho ascoltato cinque puntate adesso non mi ricordo nemmeno quanto sia lungo una puntata e non è bene perché appunto l'ho già raccontato in uno dei miei precedenti tre minuti grezzi i podcast che mi fanno ascoltare sono quelli che non sono belli o meglio sono quelli che sono costruiti in un modo che non mi interessa seguire invece questi ho seguito un bel po poi mi sono resa conto che stavo seguendo con troppo interesse allora ho spento i podcast però mi riciravo nel letto sentivo tutti i rumori a un certo punto si sono alzati qualcuno dei vicini è andato al bagno ho sentito lo sciacquone del bagno del loro del loro appartamento poi cominciato a venire la luce da fuori stava facendo giorno alba io dicevo che io non voglio vedere chi ora è perché se poi vado chi ora è mi viene ancora più la paranoia che mi devolta insomma lo senti anche dal tono lamentoso della mia voce spero di riprendermi presto e di fare tutte le cose che devo fare abbiamo nei tre minuti credi se riuscite a farli